Oggi chiediamo allo Spirito Santo il dono della serenità. Dal libro del Deuteronomio, il capitolo del dodicesimo, il versetto, il decimo. Quando avete passato il Giordano abiterete nel paese che il Signore vostro Dio vi dà in eredità ed Egli vi avrà messo al sicuro da tutti i vostri nemici che vi circondano, abiterete tranquilli. Spirito di serenità e di pace, anche oggi ti chiedo di scendere su di me e di concedermi il dono di sentire, parlare e agire secondo il tuo volere. Spesso mi capita, e anche oggi mi potrebbe capitare, di trovarmi in qualche situazione strana o inattesa. In quei momenti ho molto bisogno della tua serenità e della tua sapienza. È anche possibile che qualche volta io debba lavorare o trascorrere un po' di tempo con persone dal carattere difficile o che forse, per qualche circostanza particolare, stanno attraversando un periodo di tensione che le induce a diffondere agitazione intorno a sé. In tutti questi casi ti prego, Spirito Santo, di darmi in dono la tranquillità, la misericordia e la pazienza che solo tu sai donare. Aiuta anche me ad attraversare il Giordano, a oltrepassare la frontiera della mia impazienza, dell'intolleranza e dell'incomprensione, per costruire insieme ai miei fratelli il regno nuovo dell'amore, fondato sulla pazienza, la tolleranza e la comprensione che procedono da te. Amen Grazie